Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, scuola calcio Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, scuola calcio Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia! All'ottavo minuto! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Prossima gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Gara tra le compagini della Fiorentina e Pasquale Foggia, partiti! Finisce così... sale a 6 punti la Fiorentina in classifica!